Dieci passi per arrivare a zero rifiuti. Lo scienziato e attivista ambientale Paul Connett torna in Versilia per presentare un nuovo libro e propugnare ancora una volta il suo messaggio. Basta stupidaggini come inceneritori e discariche, spreco di soldi e fonti di inquinamento. Si invece ha una visione del futuro dove separare, differenziare, compostaggio, porta a porta e riciclo siano parole d'ordine. Ci vuole un passo concreto per la sostenibilità e la salute dei cittadini. Siamo noi a produrre i rifiuti, quindi serve che ogni cittadino li separi e ricicli e dobbiamo far capire alle industrie che se una cosa non può essere riciclata, allora non deve essere prodotta. Ci servono progetti migliori per i secoli che verranno. Il futuro è dei giovani e bisogna potenziare la ricerca e lo studio di soluzioni alternative. Riprendiamoci l'acqua, il cibo e le risorse, aggiunge Connett. E infine, Coni ha un aforisma da mandare a memoria anche per i posteri. Dio ha creato i vostri politici per non confondere l'Italia con il paradiso. Un bellissimo paese dove a troppe parole seguono irrimediabilmente pochissimi fatti concreti e utili.